Noi abbiamo deciso di tagliarti i fondi. Mamma, mi sono laureato adesso? Ci sono tante cose con 5.000 dollari. No, no, no! Avete avuto la bella idea di fare all'americano. Piazza, fanculo! No, no, papà, aspetta, devi aiutarmi. Charlie, è fantastico, ti hanno derubato. Me ne vado a Bologna. Charlie, my friend! Americano? Già. Dai, Charlie! Lela non ti ha insegnato niente sulle bambi italiane. Lungo, lungo, corto! Tu sei il nuovo amico di mia figlia, eh? Io voglio la mia borsa adesso. Danno via. Noi vogliamo quella borsa. Quello che dobbiamo fare stanotte è stare uniti e mettere in piedi un clusterfuck per vendicarci con tutti gli ingredienti. Quanto è romantica. Clusterfuck! Lungo, 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 lungo. Grazie.